ciao ragazzi benvenuti a dirt 2.0 gioco della ps4 che ho messo sull'hard disk esterno della mia ps5 per far vedere un attimo visto che ho fatto anche vrc 9 con tutte le impostazioni del dual sense fichissime qui non ci sono però il gioco devo dire la verità non è niente male troviamo anche anche tra l'altro è bello veloce non so se era così anche su ps4 o inizia 60 non visto quattro sinistra taglia 55 destra buona fortuna velocizza anche i giochi della ps4 io lo vedo da fuori e raga 5 4 3 2 1 via 60 non visto quattro sinistra taglia poco 50 5 destra 80 5 sinistra 30 5 destra molto lunga apre su crinale 40 4 destra apre e rallenta tieni la destra in uno sinistra lunga 80 ma non è piant'io così 6 sinistra 50 6 sinistra 50 mi piace giocare con i giochi di macchina 4 destra lunga apre 50 precoce 5 sinistra molto lunga apre su crinale 30 i miei video sono per farvi vedere un po' una panoramica di un po' di giochi se volete comprare, per vedere un po' come si comportano e ps5 l'hard disk esterno funziona tranquillamente preso dalla ps4 trasferito di qui senza formattare senza fare niente funziona benissimo ma ho dovuto riscaricare i giochi non ho dovuto fare niente, solo i salvataggi, chiaramente i salvataggi online non ho dovuto ricominciare tutti da capo, questo ho dovuto ricominciare da capo anche perchè ho fatto pochissimi in tre sinistra lunga mi stringe in tre destra lunga non tagliare in quattro sinistra molto lunga comunque è stata un'impressione mia ma questo controllo è molto più preciso del 2 shock in quattro sinistra stringe sudosso in attenzione non tagliare uno destra lunga qui l'ha parlato sta andando contro la roccia spostate quella roccia quattro destra molto lunga su crinale in sei sinistra in tre destra in tre sinistra stringe attenzione 30 tornate non visto a sinistra non tagliare ragazzi brutto 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 non tagliare due a destra apre su crinale 30 tieni la destra intornate non visto a sinistra lunga stringe sudosso crinale 30 2 sinistra in uno destra molto lunga stringe non tagliare intornate aperto a sinistra stringe su crinale dosso non tagliare 5 destra lunga stringe 1 apre stringe su crinale e tieni la sinistra su 30 non tagliare non tagliare 6 destra in uno sinistra lunga stringe in due destra lunga stringe andare realmente sostituito o al giardino in tre sinistra lunga apre in attenzione 5 destra su crinale ponte stretto ponte stretto in uno sinistra stringe taglia poco 30 quattro destra stringe in cinque sinistra in due destra lunga stringe in uno sinistra lunga apre attenzione stringe su ponte stretto altro ponte in tre sinistra 30 uno destra stringe sono mai i giocchi di rally sto ruendo contro le rocce in un'altra volta in un'altra volta in due sinistra 50 su ponte stretto in tre destra in tre sinistra stringe in tre sinistra in quattro destra lunga stringe in un'altra parte in 3 sinistra in non tagliare uno destra stringe ragazzi però in uno sinistra stringe formula 1 e tutti gli altri una pena di pazienza che uno o due video al giorno non posso fare 2 stringe in 3 sinistra lunga su crinale allora in attenzione non tagliare 3 destra su ponte stretto tieni la sinistra su 30 in uno destra stringe in 6 sinistra in attenzione 2 destra lunga stringe su ponte stretto 2 destra non tagliare 50 tornante aperto a sinistra non visto 100 6 sinistra lunga 50 troppo bello Romorino 6 destra su crinale in stretto 5 sinistra in 2 destra stringe in 2 sinistra stringe 1 in 2 destra lunga apre 30 in 2 destra lunga stringe 1 non tagliare lunga 50 per stare già più tranquilli le salite colori tutti che sono bellissimi ma oh 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 tieni la sinistra intornando per rilassarvi un po' ogni tanto non essere troppo competitivi sempre serate che lo siete un po' stanchi così tieni la sinistra in 6 destra su grata in 1 sinistra stringe in 2 destra lungo 30 6 destra in 6 sinistra speriamo che fanno una patch 30 attenzione 2 sinistra su crinale stretto non lo ricordiamo in 6 destra in attenzione non visto 1 sinistra chiude stretto in 1 destra stringe 30 3 sinistra lunga in non tagliare 1 destra apre 4 destra lunga attenzione attenzione che figura proprio anche tutta la gente in non tagliare tornante aperto a sinistra 50 su arrivo tornante arrivo vai grande hai appena fatto il tempo migliore della tappa grande Marco Trams tempo migliore della tappa e proseguiamo vediamo un po' rip una bello rupo beh chiaro graficamente il vorrecci molto più bello però sto parlando anche di questo gioco qua è uscito l'anno scorso penso l'anno scorso raga ciao cagnolina la mia olivia di fianco a me mentre giochiamo fortissimo a me 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 bello filo e tieni la destra e non tagliare 4 sinistra in 5 destra 30 3 sinistra 6 destra 30 su dossi rallenta 5 sinistra e non visto tornante a destra in 1 sinistra 30 su dossi 4 sinistra lunga su crinale 30 tornante aperto a sinistra in 5 destra lunga stringe tornante aperto a destra non tagliare lunga 30 non visto tornante a sinistra apre in 1 destra apre in 2 destra 30 2 destra lunga stringe 1 sinistra in 2 destra lunga eccolo 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 in 1 sinistra molto lunga apre e stringe in 5 destra lunga il 5 destra dai 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 vai lancia vai lancia 2 sinistra taglia poco 30 4 destra non tagliare dai 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 2 sinistra lunga stringe 50 Tieni la sinistra su crinale In 5 a destra Ah scusa Stavo rotto i lacetti 5 a destra lunga Stringe 1 No 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 Dai 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 vai vai Ah bello ribaltamento Bello ribaltamento Pensavo che c'era tipo il rewind 6 sinistra su crinale 30 Non visto 1 destra lunga Stringe 50 Tieni la sinistra in 4 a destra Non tagliare Si può fare un minimo errore Che si ribalta Con le lancia Con le lancia rally Lancia è il top 3 sinistra lunga Al traguardo 70 Allo stop Dai 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 Grande Eccovi qua commissario Ottimi passi verso la vittoria in questa tappa Grazie La macchina non si rompe però Vabbè Poco Poco No problema Vai Prossima tappa ragazzi Sto preparando Anzi Dopo questo Questo partito Finarelli Voglio fare Voglio fare Un video del Valhalla Assassin's Creed Valhalla Raga Se può interessare Uh Eh si Mi sono un po' ribaltato Scusate Motore Niente Ripara Ripara Sì serio Sì serio Ah Qua se ne sta andando Anche le luci ho lotto Conferma Vabbè Le luci potevo anche Dai Ecco Di sera Per fortuna Ho riparato le luci Ragazzi Per fortuna Ho riparato le luci Mica l'ho visto Che era di notte Cinque Quattro No Sessanta Tornante aperto A destra Stringe No 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 Dai Così no Però Ho sbagliato il tasto Cinque Quattro Tre Due Uno Via Via Sessanta Tornante aperto A destra Stringe Dieci secondi Così a botta Era praticamente Correre per lui Sì ma c'è anche la nebbia Polveretto In uno destra Stringe Apri molto lunga Apri molto lunga In due sinistra Molto lunga Stringe uno In due destra Stringe Perché non farlo più Più stretta In non visto Tornante a sinistra Non tagliare In uno destra Stringe In non tagliare Sei sinistra E' un po' stretta E' un po' stretta Ma non c'è la mica Ma non c'è la mica scritto Tieni la destra In quattro sinistra Apri molto lunga Stringe uno In non tagliare Uno destra In cinque sinistra Sei destra Trenta Tornante non visto a destra Apre Sei destra Trenta Tornante aperto Tornante aperto A sinistra Concentrazione Ragazzi Rinfamo Apri sei lunga Su crinale Improvviso Uno sinistra Stringe Su crinale stretto Dobbiamo recuperare Il leader Guardalo là Dove è il leader Due destra Non tagliare In due sinistra Stringe In sei destra In sei sinistra Trenta Sei destra Lunga Apre Rallenta 50 Crinale Tornante non visto A destra Trenta Non tagliare Uno sinistra Su ponte stretto Trenta Possibile Tre sinistra E tieni la destra In uno sinistra Non tagliare In penalità In quattro destra Su ponte stretto In quattro sinistra Su crinale In quattro destra In due sinistra Stringe Trenta Tornante non visto A destra In tornante A sinistra In due destra In uno sinistra In uno destra In non tagliare In non tagliare Due sinistra Apre Due destra In non tagliare Due sinistra Stringe Su ponte stretto Trenta Due destra Uno sinistra Apre lunga Trenta Attenzione Attenzione Crinale E non tagliare Due destra Stringe Su ponte stretto In due destra Lunga Stringe Uno In uno sinistra In uno Quattro destra Trenta Tre sinistra Trenta Vado dove vuole La macchina Attenzione Uno destra Stringe Su ponte stretto Un altro po' In tre sinistra Su crinale Trenta Tre destra In tre sinistra Lunga In uno Non visto Destra Stringe Ecco ragazzi Dai 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 che ci siamo Ragazzi Dai che lo recuperiamo In cinque sinistra In cinque destra No 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 Ti prego Dai 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 Muoviti Muoviti macchina No Che l'avevo preso Dai che l'avevo preso Amo In finale Tornante non visto Precoce a destra In non visto Tornante aperto A sinistra Lunga Stringe In due destra Apre Trenta L'avevo preso Un po' di tre La manino Crinale Improvviso Tornante A destra Apre In quattro sinistra Lunga Stringe Non tagliare Uno Trenta Non visto Tornante a destra Trenta Ti devo recuperarlo Due destra Stringe In tre sinistra Trenta Tornante a destra In quattro sinistra Lunga Stringe In rallenta Frega un po' Stare a vedere le curve Da una parte In quattro sinistra Apre In quattro destra Molto lunga Tre sinistra Lunga Su crinale Quaranta No 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 Era recuperata Fai brava Tornante a destra Tornante a destra Tornante a destra Quattro destra Lunga Quattro destra Lunga Quattro Due destra Stringe In sei sinistra Apre su crinale Lunga Trenta Dai dai Se anche c'è pochi secondi Dovrei essere un po' in vantaggio Sinceramente Da prima Adesso Siamo che c'è tutta dritta Tutta dritta 1.50 Allo stop Ben fatto Beh dai 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 Non era male Con tanto che mi sono ribaltato Un paio di volte sono andato a sbattere Grande E' il primo pezzo La tappa è stata dura Ma è sembrata veloce Il primo pezzo è fatto un po' un disastro ragazzi Eh beh Un secondo Alla fine sono ancora davanti Per quanto Una decina di secondi Dai 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 Non so quante tappe ci sono In sto vento Sempre La parra argentina 5 km e 30 Perché è forte Che è due di note No Ma non mi fai riparare la macchina Per fortuna sono tutte le luci ragazzi Se lo fanno le luci qua Ok Ancora più nuotte Grazie 5 sinistra lunga stringe In 5 destra lunga 30 6 sinistra 50 sudossi e salti Rallenta 2 destra stringe Rallenta 2 destra Apre 6 lunga Stringe 4 In 6 sinistra 50 Attenzione Tieni la destra In 1 sinistra Chiude stretto 3 destra Non tagliare No 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 questo non l'ho proprio visto ragazzi ma no sa che me la gioco me la gioco terribile terribile 5 sinistra sudosso apri rallenta 30 1 destra stringe 50 non visto 2 sinistra stringe apri 30 3 destra stretto 30 2 destra stringe non tagliare 50 sudosso 2 sinistra stringe 6 destra 40 1 sinistra stretto 30 5 destra sudosso 6 sinistra su crinale in non visto 1 destra apri 30 attenzione tienila sinistra in 6 destra stretta 6 sinistra 30 30 4 sinistra rallenta 30 non visto tornante a sinistra 50 6 destra su dossi ok ok dai 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 che è qui in 6 sinistra 30 non visto tornante aperto a destra in 1 sinistra lunga 30 30 5 destra lunga 5 sinistra non tagliare 6 destra 30 dosso crinale 3 destra lunga apri 6 non visto 1 sinistra stringe perché si serve un po' un po' la visuale notturna e poi ti spallo talmente su e su in 4 destra 4 sinistra stretto 30 non visto tornante aperto a sinistra in non visto tornante aperto a destra in 4 sinistra in non visto tornante aperto a sinistra intornante a destra tieni la sinistra su 30 2 destra in 1 sinistra taglia poco apri 30 3 destra no 4 sinistra non tagliare in non visto 1 destra lunga apri 6 taglia poco 40 1 sinistra in 3 destra si può non far riparare la macchina tra uno e l'altro in 6 sinistra 30 4 destra intornante stretto a sinistra in 4 destra 50 ah no non puoi dar dritta dai sordo 6 destra tutto bene tutto stretto 5 destra 5 destra 2 sinistra 5 destra apri su crinale 30 5 destra lunga sudosso stringe su crinale su arrivo allo stop perfetto 4 destra 5 5 4 destra 4 destra 4 destra e vai trofeo tutta rotta poverina tutta rotta perfetto ragazzi perfetto questa roba è gratis perfetto è un motore il 3 vabbè dai potenziamo tutto New England USA vediamo lo scenario bello mi piace non c'è niente rotto inizia 5 destra lunga apre su crinale 50 4 destra su salti buona fortuna 5 4 3 2 1 via 5 destra lunga apre su crinale 50 4 destra su salti in non tagliare 4 sinistra lunga wow albero svolta tardi tornate sinistra sinistra adesso eh piatto 6 destra lunga 130 stai al centro su crinale in 6 destra e tieni la destra su 200 4 destra 4 destra molto lunga stringe tornate a destra in 6 sinistra lunga in 5 destra lunga in 6 sinistra su crinale 80 non tagliare 5 sinistra su crinale in 6 destra 100 6 sinistra 120 6 sinistra su crinale in attenzione 4 destra lunga stringe in 6 sinistra in 6 sinistra molto molto lunga in 6 destra molto molto lunga stringe 5 100 5 sinistra lunga 150 che sta a sparare un sacco di calzati 100 che piatto sinistra su crinale 140 svolta non vista 1 destra 1 destra da 140 140 allora questa macchina è attraverso cancello stretto 30 vai il contrario vai vai attraverso cancello stretto ci sta ci sta ci sta ci può stare 120 taglia 6 sinistra su abballamento 120 taglia 6 sinistra su abballamento non ci credo dov'è che doveva andare è sbagliato è sbagliato in 5 destra su crinale molto molto lunga apre su crinale 50 tieni il centro in piatto su crinale 100 tieni la sinistra su crinale con salto 120 crinale con salto in 5 destra in 6 sinistra non tagliare 100 tieni il centro su crinale grande salto 40 4 sinistra lunga apre in 6 destra 70 quando lo prendo 16 secondi 4 destra lunga apre in 4 sinistra lunga 30 6 destra apre lunga in rallenta 6 sinistra e 6 destra lunga stringe 3 lunga apre 30 5 destra lunga apre 30 4 destra lunga stringe 50 4 destra stringe 5 sinistra molto lunga stringe 4 taglia in 5 destra su crinale in 5 sinistra lunga attenzione non tagliare su traguardo allo stop ti rendi conto 15 secondi malato che sto la vedo malissimo ragazzi malissimo è una merda la macchina la macchina è la perfetta sono io che ahhh 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 vabbè facciamo un'altra dai e qua mi sono impalato assurdo è sempre un rally qui è infinito faccio l'ultima che bisogna anche recuperarle le gare non bisogna sempre ripartire da capo non ho riparato la macchina e non ho le luci di notte ma perchè di notte 5,4,3,2,1 via sono infinite allora con il suo trinale 100 su trinale svolta non vista 2 sinistra apre 100 6 sinistra 160 4 destra molto lunga su trinale 50 tieni il centro su trinale in 6 sinistra lunga stai all'interno su trinale in 6 destra rallenta 70 tornante non visto destra non tagliare apre su trinale 50 40 4 sinistra lunga 30 tieni la destra su grande salto 80 tieni il centro su salti in 6 destra in rallenta 5 sinistra lunga su crinale stringe 3 su ponte molto stretto in 4 sinistra no 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 dai 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 veloce veloce che c'è fuori il ponte sa che devo recuperare anche gli altri secondi 100 su crinale improvviso 4 sinistra improvviso 4 sinistra 50 tieni la sinistra sul salto 50 6 sinistra apre su crinale in 4 destra stringe in 5 sinistra lunga apre 50 attenzione crinale e 3 destra stringe in non tagliare 3 sinistra lunga in 6 destra e 6 sinistra dai 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 50 taglia 5 destra in 6 sinistra lunga su crinale stringe 30 centro su salto in 5 destra lunga stringe 4 lunga apre 50 4 destra sul crinale apre tieni il centro sul crinale in 5 sinistra apre sul crinale in 4 sinistra sul crinale 150 4 sinistra 50 per un attimo per riportarmi dentro perché mi stava buttando fuori 4 sinistra in 3 destra attenzione stringe 2 in 3 sinistra apre lunga stai al centro sui 200 6 destra apre su grande salto 80 centro su salto 50 5 sinistra su crinale caspita grande salto fuori di strada 120 rallenta svolta stringe tornante destra non tagliare 80 tornante stretto non visto sinistra 80 giuro uguale a prima oh 6 sinistra 50 ho perso tutto il vantaggio 6 destra su crinale salto 50 4 destra lunga 6 sinistra lunga 50 tutto il vantaggio 5 sinistra 5 sinistra 6 destra su crinale molto lunga stai all'interno su crinale salto 100 3 sinistra in salita 90 tieni il centro su crinale salto in 4 destra lunga 120 salto 5 sinistra lunga apre su salto 5 sinistra rallenta 6 destra su crinale molto lunga stringe in 1 sinistra 150 150 150 6 sinistra pianto destra su crinale 200 4 destra lunga apre 100 rallenta 4 sinistra lunga in svolta non vista tornante molto stretto destra lunga 6 sinistra ma come fai a fare un tornante del genere ma come fai a fare un tornante del genere ci vedono neanche in 6 destra lunga apre 80 su crinale 5 destra stringe 1 lunga apre 20 svolta 1 sinistra lunga oltre doppio incrocio 80 2 sinistra in 3 destra lunga 20 1 destra 80 angolo retto destra 100 1 sinistra 50 5 destra in 5 sinistra apre su crinale 80 taglia 5 destra in 6 sinistra su crinale lunga 50 su variante 5 destra 5 destra in 6 sinistra e tieni il centro su crinale in attenzione 4 destra stringe apre su crinale stai a centro su 180 4 destra lunga dai ragazzi dai ragazzi in 3 sinistra molto lunga stringe 2 dopo l'incrocio dai che ce la stiamo facendo drums il primo in assoluto del mondo pirata in 6 sinistra in 6 sinistra in 6 sinistra apre su crinale molto lunga stringe 4 in 6 destra 50 6 sinistra 50 6 sinistra su crinale molto lunga stringe 30 su arrivo 6 destra allo stop grande 52 te la sei cavata davvero bene potremmo aver vinto la tappa uuuu un principale basta per stasera grande dirt 2.0 bello 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 questo è il gioco ah vedi in corso quindi poi quando vado sui 20 vado avanti da qua figo va bene ragazzi al prossimo video mi raccomando seguitemi pollicione e tutto il resto statevi bene al prossimo valala ciao raga